Buonasera, siamo a Sarremo durante il 73esimo festival della canzone italiana siamo esattamente al venerdì, quindi alla serata dei duetti abbiamo già conosciuto tutte le canzoni in gara un festival veramente seguitissimo anche dai giovani, sono tanto parlato ma vogliamo farvi vedere cosa c'è oltre al festival che si vede in televisione e parto proprio da qui perché alle mie spalle c'è la Costa Smeralda che anche quella vediamo in televisione però adesso andiamo proprio, vi portiamo a fare un giro nella piccola cittadina di Sarremo per farvi vedere come si anima questa città in questa settimana venite con noi grazie è uscito l'Azza, giusto? è uscito l'Azza, sì però qui quando si vedono le comunelle, c'è qualcosa di capannelli è in attesa andiamo, andiamo questi sono soltanto gli eteri ma stiamo per arrivare ai punti delle radio? sì ecco arrivati all'unicirca, all'azienza del casino di Sarremo e iniziano tutti i concini con le radio abbiamo visto Radio 2box, Radio Number One ieri abbiamo fatto anche lucizia con i nostri amici e Radio Tausia di Radio Tausia esatto, però lì sono più radio che si sono riuniti insieme e così hanno un palinfesto di un ritmo che riguarda come è bello il casino con tutte le note musicali stupendo con la base se la speriamo vai su su Grazie per la visione! Grazie a tutti!